Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, rappresenta un'opportunità unica per il territorio. Tantissimi eventi hanno già colorato e coloreranno quest'anno da capitale, così come tante sono le realtà al fianco del comune per sostenere al meglio questo riconoscimento. Tra queste c'è anche Lindbergh Hotels. Abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa di Pesaro capitale della cultura 2024 perché siamo ovviamente pesaresi ed è un orgoglio anche per noi aver avuto questo riconoscimento e crediamo che sia un'iniziativa molto importante per la città e per il suo futuro. Pesaro 2024 è un'opportunità soprattutto per Peso ma anche per tutti noi cittadini. Abbiamo sempre ribadito il fatto che comunque è un punto di partenza e non un punto di arrivo ma perché l'opportunità appunto di Pesaro è farsi conoscere. Ma per farsi conoscere dobbiamo per forza di cosa mettere insieme delle azioni di marketing e commercializzazione importanti per cercare di sviluppare sempre più quello che è l'interesse poi dei turisti e di chi ci viene a visitare perché abbiamo constatato appunto che in questi anni chi viene poi a soggiornare a Pesaro rimane estasiato della qualità della vita e della bellezza di questa città. Effetti, quelli di una Pesaro da capitale che si avvertono già nel mondo del turismo con un interesse sempre più crescente nei confronti della città. Qualche effetto lo stiamo notando paragonato all'anno scorso ma ricordiamoci che comunque i dati dell'anno scorso sono un po' forvianti perché erano appunto sporcati dal discorso alluvione che ha un po' penalizzato tutte le coste della riviera adriatica. Siamo in una situazione in cui comunque un po' di interesse lo notiamo da parte delle richieste che ci arrivano e dobbiamo assolutamente cercare di comunicare meglio quelli che sono i nostri eventi e quello che succederà poi su Pesaro capitale della cultura. Dobbiamo sempre più lavorare con eventi di respiro nazionale e internazionale perché poi l'equazione è anche abbastanza semplice in fondo cioè che tipo di evento hai, cosa comunichi, che interesse scaturisci per Pesaro tanti più turisti sono interessati poi a venire a visitare la città. Un'opportunità per il futuro dove Pesaro si fa trovare pronta con le sue strutture importante sarà il ruolo dell'auditorium Scavolini secondo Filippetti che potrà destagionalizzare la stagione incrementando il turismo in autunno e inverno. Lascerà assolutamente qualcosa di molto positivo soprattutto sul territorio pesarese e anche marchigiano poi alla fine perché si parla anche di turismo delle marche. Gli imprenditori poi fondamentalmente investono dove c'è domanda quindi se noi riusciamo bene a lavorare questo anno cercando di sviluppare sempre più una domanda turistica siamo sicuri che altri imprenditori a livello nazionale e internazionale potranno poi cercare di investire a Pesaro e cercare di alzare poi sempre più la qualità del turista e del settore turistico appunto della nostra città. Non da ultimo appunto molto importante l'inaugurazione dell'auditorium Scavolini che soprattutto per un fatto di destagionalizzazione della destinazione permette a Pesaro di avere un ventaglio generale su quello che sono la richiesta appunto da parte dei turisti ma soprattutto anche delle richieste per un turismo congressuale un turismo che può appunto anche destagionalizzare la destinazione perché qui è la possibilità appunto di lavorare coprendo appunto un ventaglio completo di quelli che sono le richieste in questo momento che ci sono ovvero con la vitrifrigarina lavorare con eventi grandi l'auditorium Scavolini che è questo piccolo gioiello all'interno della nostra città che permette la possibilità di catturare eventi medi e medio piccoli anche molto di qualità e appunto questo ventaglio di opportunità che abbiamo soprattutto per allungare e per anticipare la stagione estiva è molto importante. Grazie a tutti.